Uno dei piatti più noti della nostra cucina è in realtà un non piatto. In che senso vi starete chiedendo? Beh, ve lo spiego subito. Uno degli elementi che definiscono, almeno nell'immaginario comune, un piatto o più in generale una preparazione di cucina è il fatto di essere cucinati. Il pinzimonio, ed è questo il piatto del quale vi sto parlando, però di propriamente cucinato non ha nulla. È una preparazione fredda che implica un'attenta selezione delle verdure, un lungo lavoro di pulizia e una bilanciata costruzione del condimento che, al di là del classico olio, sale e aceto, può spaziare in mille varianti diverse. Il pinzimonio nel nostro paese è diventato così celebre anche grazie alla straordinaria varietà di ortaggi che gli orti italiani da nord a sud riescono a mettere a disposizione. Non c'è stagione italiana che non riesca a garantire un'ampia scelta di verdure, dalla quale selezionare quelle da intingere poi in una cidula vinaigrette o in un più ricco condimento alla francese, magari con maionese e limone. Uno dei protagonisti assoluti del pinzimonio è certamente il sedano. Con la sua naturale sapidità, la sua consistenza croccante, la straordinaria freschezza e la nota aromatica che può ricordare l'anice, il sedano è un componente immancabile di ogni pinzimonio che si rispetti e, se proprio è un difetto, è la presenza di quei fastidiosi filamenti che ricoprono la parte più esterna della costa. Ma se si vuole evitare anche questo limite, è sufficiente ricorrere proprio a quella biodiversità della quale parlavamo prima. A Trevi, in Umbria, a pochi chilometri dalle bellissime e celebrati fonti del Clitunno, ne parlano per esempio nei loro testi Carducci, Byron e Goethe, e dalla città che diede i Natali a San Francesco, si coltiva una particolare varietà di sedano, di un colore verde così intenso e scuro da meritare l'aggettivo di nero. Questa particolare tipologia, molto famosa in passato, ha rischiato di scomparire, ma è stata fortunatamente recuperata negli ultimi anni grazie all'ostinazione di alcuni agricoltori locali. Una delle caratteristiche principali, oltre al colore, è la dimensione. Ogni pianta può raggiungere anche il metro d'altezza, contro i classici 40 centimetri del sedano americano, che ormai comunemente si consuma e che ha soppiantato questa varietà locale. E poi il nero di Trevi è un sedano totalmente privo di filamenti e profumatissimo, caratteristiche queste che gli sono valsa nel passato una fama talmente grande da farlo diventare uno dei prodotti irrinunciabili nel menu dei passeggeri che si spostavano via mare verso le Americhe. Come molti prodotti locali tradizionali, anche il sedano nero di Trevi è circondato da riti e credenze popolari. Una delle più diffuse è quella secondo la quale la semina debba avvenire il venerdì santo. Così facendo la crescita della pianta sarà più rapida e al contempo sarà rallentata la fioritura successiva alla maturazione, che si completa normalmente nel mese di ottobre. Il sedano di Trevi, utilizzato anche in preparazioni che prevedono di cuocerlo come una sorta di parmigiana o in forma gratinata, dà il meglio di sé crudo, magari proprio in pinzimonio, incontrando un altro dei prodotti simbolo di questa regione, l'olio extravergine d'oliva. E allora dedichiamoci alla preparazione di questo piatto non piatto. Prendiamo quanto più verdure la stagione ci mette a disposizione, a partire ovviamente dal sedano nero di Trevi e poi carote, finocchi, gli ultimi peperoni, cavolfiori, teneri carciofi. Puliamo tutte le verdure e laddove necessario peliamole. Tagliamole a tocchi. Nel frattempo prepariamo i condimenti. Partiamo dal più semplice. Tre cucchiai di olio extravergine d'oliva umbro, tre cucchiai di aceto di vino rosso e sale. Poi ne facciamo un altro. Schiacciamo un po' dei lamponi. Mettiamo un cucchiaio di miele, uno di aceto di vino bianco e tre di olio extravergine. E infine uno ricco un po' esotico, un bel cucchiaio di maionese, uno di succo di limone, la scorza grattugiata di mezzo limone, un cucchiaino di senape e tre di olio. Intingetevi le verdure e gustatele. Buon appetito! Grazie a tutti!